Il difficile momento del Movimento 5 Stelle ad Agropoli vede un ulteriore colpo di scena con le dimissioni del consigliere d'opposizione consolato Natalino Caccamo, che nelle ultime settimane era stato al centro di polemiche su un suo possibile passaggio alla Lega, anche se le sue dimissioni non sono dovute a questo retroscena, ma ad un attuamento del codice etico del Movimento 5 Stelle di Agropoli, che prevede la rotazione dei rappresentanti in Consiglio Comunale e come previsto a metà mandato c'è stato il cambio di poltrona. Infatti Caccamo verrà sostituito da Mario Pesca, che era il secondo con più voti nella lista pentastellata delle ultime elezioni comunali agropolesi. Noi mettemmo nero su bianco le nostre intenzioni, chiunque ci ha seguito nella campagna elettorale nel 2017 sa che noi ci proponemmo come gruppo, io stesso non feci mettere il mio nome sul manifesto dell'apertura della campagna elettorale, perché ci doveva essere un progetto ad andare avanti, un progetto che era rappresentato appunto da un candidato sindaco ma anche i candidati consiglieri che avrebbero avuto un ruolo chiave, sia fossimo stati amministrazioni ma anche d'opposizione. Chiaramente l'opposizione ha dei numeri minori rispetto alla maggioranza e in tal caso prevedemmo un principio di rotazione per favorire la partecipazione quanto più ampia possibile. Chiaramente oggi il Movimento 5 Stelle ha solo una posizione in Consiglio Comunale, quindi è impensabile poter avere una partecipazione della più ampia possibile, però per quello che è possibile, ovvero lasciare l'altra metà della Consigliatura a chi segue, è doveroso ed è giusto per un principio che io stesso ho voluto e che io stesso ho fatto scrivere, proprio appunto per aumentare la possibilità di tutti di poter dare il proprio contributo. Possiamo sapere chi è che la sostituirà quindi in Consiglio Comunale? Certamente, sarà l'avvocato Mario Pesca che è il primo che segue nella lista, è stato il primo letto, il più votato della lista del Movimento 5 Stelle, quindi sarà lui a rappresentare il Movimento 5 Stelle nella questa seconda metà di Consigliatura. Possiamo anche smentire un po' le voci di corridoio che dicono che ci sono troppe coincidenze dalla foto scattata alla convention con Salvini e quindi il suo passaggio alla Lega. Ecco, facciamo chiarezza anche su quest'altra situazione. Certamente, allora io non mi sono mai nascosto dietro un dito, tutto potete pensare, potete dire, potete raccontare, ma che io non l'abbiamo andato a dire, che io l'abbiamo andato a dire questo no. Io ho parlato chiaramente, ho utilizzato i termini corruzione in Consiglio Comunale, parentopoli, ho fatto nome e cognome, quindi figuratevi se io oggi mi possa nascondere dietro un dito. Quindi se ci fosse un'appartenenza a un partito politico, io sarei il primo a rivendicarla, questo non è assolutamente, è sfido chiunque, è sfido questi ciarlatani che oggi chiacchierano, dicono, raccontano, a favorire le prove. Una stretta di mano, altro non testimonia, che è il rispetto reciproco tra le persone. Perché oggi è il momento di guardarsi negli occhi e capire chi ha dato un contributo a questa collettività e chi da questa collettività ha solo preteso e voluto qualcosa. Del mio comunicato che oggi ho pubblicato, ho chiarito benissimo la mia non appartenenza ad altri partiti politici, rimango un iscritto del Movimento 5 Stelle a cui faccio fede nei principi, sperando che possa anche evolversi e tornare a un'azione decisiva secondo i principi iniziali che ci eravamo dati, cosa che oggi purtroppo è messa in dubbio, non da parte mia, ma da un po' dalle circostanze. Per cui oggi la politica nazionale deve dare una mano ad Agropoli. È finito il tempo in cui Agropoli, i cittadini di Agropoli facevano i cesti e le portavano in dono agli altri. Come impiegherà le giornate politiche? Quindi continuando l'azione, ovviamente l'ha detto anche nel suo comunicato, tra virgolette, che ha postato su Facebook, l'ex consigliere a questo punto d'opposizione della città di Agropoli, Consolato Caccavo. Sì, allora l'impegno continua come prima, più di prima. Io ho fatto politica per tanti anni senza essere consigliere comunale. L'attività politica prescinde, era questa la dimostrazione che volevamo dare alla cittadinanza e ci siamo riusciti. L'impegno politico prescinde dalla figura e dalla carica politica, perché oggi abbiamo fortunatamente gli strumenti di interazione, qualsiasi cittadino, gli strumenti di interazione con la politica e con amministrazione. Si possono fare petizioni, si possono fare istanze, si possono fare l'accesso civico. Io non ho né più né meno l'accesso che a qualsiasi altro cittadino. Forse possono cambiare un po' i tempi, ma neanche voglio dire, perché entro 30 giorni la pubblica amministrazione deve rispondere a qualsiasi istanza di un cittadino. È questo che, ecco, col mio esempio, fuori dalle istituzioni vorrò dare. Quindi con un comitato di azioni civiche in cui ogni cittadino potrà veramente diventare protagonista del proprio metro quadro e dare un contributo positivo alla collettività. Grazie. Grazie. Grazie.